Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi ci sarà da divertirsi e vedremo se la stampa e la Repubblica sugli scontrini democratici avranno uguale solerzia ed attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venendo qua e poi arriviamo al congresso, capivo come la Lega abbia seminato bene. Oggi Grillo a Genova, guarda il fatto che ha portato in piazza un terzo della gente che aveva annunciato avrebbe portato in piazza, però faceva freddo evidentemente, quindi molti grillini sono rimasti davanti al computer a smanettare. Ha proposto delle idee rivoluzionali, Grillo ha detto mettiamo dei tazzi sui nostri prodotti per difenderci dalla Cina. Cazzo, un genio. Ci saranno magari funerali di Stato, minuti di silenzio, ministri, viceministri, vice-viceministri che sfideranno a Prato, hanno sulla coscienza quei morti. Perché quei morti sono sulla coscienza di quei buonisti che dicono in Italia ciascuno è libero di fare quello che vuole. E poi vanno a rompere le palle agli artigiani e ai commercianti per vedere lo scontro di un'area. Quindi spero che Letta e compagnia non vadano a Prato a fare sfilata perché quei morti, italiani o cinesi che fossero, sono sulla coscienza di quelli che fanno finta di non vedere. Perché non puoi non vedere una fabbrica dove dormono dentro decine di persone. Un'altra genialata di Grillo, e questo però non è solo, è una linea che hanno scelto molti quotidiani di quelli ricchi, penso al Corriere, penso alla Repubblica. Qual è il problema dell'Italia? È a Roma? È a Bruxelles? No. Oggi un'altra delle geniali proposte lanciate da Grillo è aboliamo le regioni. Cioè il problema di Grillo sono le regioni, testualmente leggevo detto, leviamoci le regioni dai coglioni. E quindi diamo tutto in mano a Roma e a Bruxelles. Se questa è la fine di un movimento pseudo-rivoluzionario, che Dio ce ne scampi. Io rilancio da militante della Lega Nord, se dobbiamo scegliere un ente inutile da cancellare, da mandare a casa, per risparmiare un po' di quattrini, io proporrò al Congresso della Lega che siano non le province, men che meno le regioni, ma i prefetti. Il Presidente della Provincia di Brescia, Daniele Morgo, ha sfrattato il prefetto a Brescia. Perché? Perché è impazzito? No. Perché la prefettura a Brescia occupa 5.000 metri quadri in pieno centro a Brescia. Ha una residenza di 1.000 metri quadri, gli piace stare largo, evidentemente. Ha un giardino di 1.500 metri quadri, allora il pollice verde. Ma soprattutto paga un affitto che è meno di un terzo dell'affitto di mercato. Allora mi chiamo il Presidente della Provincia, infamateo. Qua noi non abbiamo più i soldi manco per piangere. Io devo mettere in sicurezza due frane lungo due strade statali, non posso spendere i soldi che ho per il patto di stabilità. Però qua la Prefettura e nei nostri locali ci danno 200.000 euro d'affitto quando il valore minimo di mercato è il triplo 600.000 euro. Manda una letterina al Ministero dell'Interno. Caro Ministro dell'Interno, vi ha visti i troie economici, sono a chiedere, visto che l'affitto scadeva proprio a novembre, in vista del rinnovo dell'affitto un adeguamento del canone di locazione, perché quei soldi vi voglio spendere per i cittadini bresciani. Risposta del Ministero dell'Interno, caro Presidente della Provincia, prendiamo atto della sua richiesta di adeguamento del canone d'affitto che qualunque proprietario di casa di buon senso farebbe in un momento di crisi, soprattutto se l'inquilino si chiama Stato italiano, non siamo purtroppo in grado di consentire la sua richiesta, anzi chiediamo uno sconto del 15% sul vecchio milano. E quindi non solo non ti do i 600.000 euro, ma cortesemente non è che sui 200.000 fuori mercato mi fai uno sconto del 15%, cosa facciamo? Non gli rinnoviamo l'affitto. Oggi la Prefettura di Brescia è abusivamente occupante i locali di proprietà della provincia di Brescia, e io ho detto al Prefetto, se siamo in battaglia, battagliamo, o questi sganciano, oppure li sgomberiamo con qualsiasi altro occupante abusivo. Si chiama Stato italiano. E questo è un cittadino della provincia di Brescia che mi dia tolto, anche di destra o di sinistra, quei soldi mi servono per la sicurezza stradale della mia gente, Roma non me li dà, vai via. Vai invece di mille metri quadri di residenza, di bilocale in periferia, e fino a che esisti con il Prefetto stai lì, poi quando ti cancelleremo per referendum, d'un torno anche perché i prefetti cunesi o bresciani non vedo la folla onestamente sui 103 titolari di Prefettura in Italia, ma questo è un altro periodo di Manica. Per dire che Gianna Gaccia diceva la Lega, non penso ci sia la vecchia Lega, la nuova Lega, la Lega negli ultimi anni abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo anche necessariamente, giustamente per un certo verso, smussato alcuni toni, abbiamo provato a essere più costruttivi, più istituzionali, abbiamo provato a cambiare le cose andando a Roma, con le riforme, con il federalismo fiscale, con la devolution, con il referendum, e da Roma non cambia nulla, era giusto provarci. Se non c'è riuscito un genio assoluto come Umberto Bossi, perché uno come Umberto Bossi non nasce per i prossimi 100 anni, se non c'è riuscito un genio assoluto, perché il cambiamento non passa da Roma. Il cambiamento passa da Cuneo, passa dalle regioni, passa dai territori, passa dai sindaci, passa dal coraggio, e quindi era giusto provarci, prendiamo atto del fatto che non passa da Roma il cambiamento. È giusto essere a Roma come controllori, quando passeranno delle leggi assurde saremo lì a far battaglia, quando, e ci arriveranno in primavera, proveranno a far passare un altro indulto per far uscire di galera 20.000 delinquenti, perché i poverini stanno stretti a minceviltà, lasciare i detenuti che stanno uno sull'altro. In galera un giornalista, la settimana scorsa mi ha chiesto ma lei è preoccupato per le sorti dei 60.000 detenuti in Italia? Io sono preoccupato per le sorti dei 60 milioni di italiani. Poi se avrà saputo... E quindi se porteranno in discussione l'indulto, dentro i palazzi faremo la guerra, però tenetevi pronti, non dovremo mettere manifesti, mandare mail, fax, il giorno in cui a Roma discuteranno l'indulto per approvarlo, messaggino, si sale sul treno, magari la prendiamo lunga dalla Cuneo 20 miglia e poi scendiamo, però a Roma i nostri battaglieranno dentro e noi tutti insieme, in pullman, in treno, in auto, fuori, non facciamo uscire quei signori dalla Camera e dal Senato fino a che non si rimangiano più a questo. Oggi è sempre Grillo, non mi piace parlare degli altri, però mi è simpatico, ha detto... E poi bisogna fare un referendum sull'euro, anche, altra genialata, l'ho già sentita. Purtroppo la Costituzione italiana dei nostri padri costituenti è così democratica che non permette di fare referendum sui trattati internazionali, quindi sull'euro e sull'Europa nessuno ci ha mai chiesto nulla. E se devo scegliere, in attesa di fare il referendum, visto che in Europa ci lavoro, e ci vado tutte le settimane per lavoro, più ci lavoro, più leggo i numeri, più parlo con i colleghi europarlamentari, più incontro artigiani, imprenditori, più mi convinco che questa Unione Europea sia un nuovo modello di Unione Sovietica e questa moneta unica, chiamata euro, sia uno strumento criminale, sia uno strumento di distruzione di massa, di titolazione di azione, di azione di azione di azione di azione di azione. Non serve il referendum sull'euro, serve andare a Bruxelles, questo dirà la Lega, chiederà la Lega in campagna elettorale, ogni voto dato alla Lega sarà una delega per o ridisegniamo tutto quanto, tutta l'Europa, perché noi non siamo euro scettici, anzi, gli unici che vogliono bene all'Europa siamo noi, noi siamo Europa, Unione è Europa, Vicenza è Europa, Milano è Europa, ma non questa è Europa, quindi o ridisegniamo tutto quanto, riscrivendo i trattati uno a uno da Maastricht a Schengen a Dublino, e ridisegniamo anche il sistema economico, se serve minacciando di uscire dall'euro, sì, è una bestemmia, no, se io so che vado a schiantarmi contro un palo, provo a sterzare, mi dicono uscire dall'euro non si può, perché pensa a quanto salirebbe la disoccupazione, siamo 5 milioni disoccupati, pensa a quanto costerebbe la benzina, abbiamo la benzina più cara d'Europa, 1,70 euro, pensa a quanto diminuirebbe il valore reale dei nostri stipendi, meno 50%, pensa a che fine farebbero i nostri risparmi, 10 anni di euro i risparmi degli italiani, meno 80%, quindi mi dicono, pensa a quanto succederebbe quando uscissimo dall'euro, se tutte cose che sono successe con l'euro, in 11 anni, se voi andate a rivederli le tabelle, 11 anni fa, il primo gennaio 2002, il giorno di entrata migliore dell'euro, Italia e Germania avevano un tasso di disoccupazione uguale, 8,5%, dirlo oggi, sembra fantasia, in questi 11 anni, dall'8,5%, uguale, per Italia e Germania, partivamo allo stesso livello, e noi abbiamo una palla a piede, che i tedeschi lo hanno, dall'8,5%, la Germania è scesa oggi, novembre 2013, al 5,4%, e noi siamo arrivati al 12,2%, non occorre uno scienziato, io sentivo la Gianna, lei ha fatto lo scientifico, io invece ho fatto il classico, perché di matematica capivo poco, anzi mi hanno anche rimandato in matematica in prima liceo, però qualcosina negli anni ho cominciato a capirla, mio figlio ha dieci anni, e se gli dico, Fede, in dieci anni, noi siamo passati dall'8 al 12, gli altri sono passati dall'8 al 5, chi ci ha guadagnato? Non occorre Mario Monti, per capire che qualcuno ci ha guadagnato e qualcuno ci ha perso, e o abbiamo disimparato noi a Cugno a lavorare, oppure ci sono dei vincoli che avvantaggiano qualcuno e danneggiano qualcun altro. Quando ero da Santoro, 15 giorni fa, ho usato un'espressione un po' forte, ho detto che l'euro è un crimine contro l'umanità. Io lo ribadisco, perché quando hai il record dei suicidi di imprenditori, quando hai un'agricoltura in ginocchio, quando hai una floricoltura in ginocchio, quando ti hanno costretto a fare un massacro sulle pensioni che non è uguale in Europa, dovevano fare la riforma delle pensioni perché eravamo quelli che andavano in pensione più giovani, adesso a Bruxelles si sono accorti che c'è un problema perché siano quelli che vanno in pensione più anziani. E quindi stanno provando a imporci un mondo al contrario. Non è solo una questione economica, guardate bene, è qualcosa di più fine, di più raffinato e di più diabolico. Il modello della famiglia è quello olandese, ci dicono a Bruxelles. Chi pensa al modello vecchio di famiglia è retrogrado, è un tardone. E io mi sono informato su cos'è la famiglia olandese. La famiglia olandese prevede matrimoni di tutti, fra tutti, due donne, due uomini. Prevede adozioni per tutti, singole, due donne, due uomini. Prevede anche la fondazione artificiale per tutti, donne, uomini. Però, e mi dicono che questo è il promesso. Ora, io non sono un bigotto, vado messa due volte all'anno purtroppo. Sono divorziato, perché i casi della vita ti portano a non poter sempre scegliere che cosa fare. Però io penso che la Lega con questo debba avere una sola parola, ben chiara, nel rispetto delle scelte private e di vita di ciascuno, però il matrimonio è quello fra l'uomo e la donna. E i bimbi vanno dati in adozione a un uomo e a una donna. Il resto porta alla fine della nostra società. Perché le mode passano, ma se non fai figli, poi ti dicono, però c'è bisogno degli immigrati perché la nostra gente non fa figli. Perché la nostra gente non fa figli? Perché hanno perso l'abitudine o l'interesse? No! Poi vai a guardare in Francia e in Francia lo Stato dà fino a 800 euro al mese alla mamma per pagarlo a babysitter. Domanda ai giovani e alle giovani che magari adesso fanno due ponti prima di imbarcarsi in un'avventura fantastica ma difficile che è quella di avere un figlio. Se lo Stato ti desse 800 euro al mese magari avresti qualche problema di meno. Quanto costa un asilo ogni d'oggi? Quanto costa un latte in polvere? Quanto costano i pandolini? Mi dicono, eh però, le adozioni gay, insomma, piuttosto che lasciarli in orfanotrofio. Andiamo alla radice del problema. Perché un'adozione per una coppia normale uomo e donna deve durare fino a 4 anni e deve costare 40.000 euro? Forse per quel po' c'è qualcuno che ha visto che è un'esplosione che è un'esplosione che è un'esplosione che è un'esplosione e quindi poche parole ma chiare, pochi concetti chiari. Diranno che siamo retrograde ma intanto ce lo dicono lo stesso. Quindi siamo brutti, cattivi, razzisti, populisti, xenofobi. Abbiamo invitato al Congresso federale alcuni soggetti pericolosi da tutta Europa. Marine Le Pen, la espirola, i finlandesi, i finlandesi, i finlandesi. Chi parla male di Bruxelles è populista, euroscettico, xenofobo, razzista, troglodita, eccetera, eccetera. Io l'ho detto, siamo Europa, siamo nel cuore dell'Europa ma non nell'Europa delle banche. Qualcuno vi ha chiesto il permesso di dare 52 miliardi di euro al cosiddetto Fondo Salva Stati? No, scelgono bene anche i nomi. Fondo Salva Stati uno ha l'impressione, mi sto dissanguando, però aiuto i bambini poveri in Grecia. Un parli balle. Fondo Salva Stati è un prestito che non ci verrà mai restituito, che va alle banche. Sono sogni andati alle banche spagnole, alle banche francesi, che erano debitrici delle banche tedesche, quindi sono soldi usciti da Cunio che sono arrivati a Berlino, le banche tedesche hanno preso quei soldi, li hanno rigirati a tasso zero alle imprese di Berlino che poi vengono a Cunio a vendere i loro prodotti. C'è un sistema geniale, è un sistema geniale dove i poveri tirano fuori dei soldi da dare ai ricchi che poi li girano quando sento i nostri ministri che dicono bisogna investire in innovazione, ma se le imprese non riescono a pagare i loro fornitori e i loro dipendenti dove trovano i soldi per fare ricerca e innovazione? E i soldi è per investire i loro e poi vendono le BMW e i frigoriferi e le lastoviglie e grazie, abbiamo sponsorizzato tutto noi e quindi non è un errore, è scientifico. L'importante è essersene accotti è una truffa, è un'euro truffa costruita molto bene con la complicità di giornalisti, di professori, di economisti. Per curiosità, quando tornate a casa andate su internet e recuperate i titoli dei giornali, di tutti i giornali, del primo gennaio 2002. Entrate in vigore dell'euro, andate a riguardarvi un telegiornale negli archivi RAI del primo gennaio 2002. Oggi sembra fantascienza, bellissimo, il futuro, saremo più belli, più ricchi, più uniti. Prodi diceva lavoreremo un giorno di meno ma guadagneremo come se lavorassimo un giorno di più. Aveva beccato la prima parte, lavoreremo un giorno di meno, anzi anche una settimana di meno, però il guadagno è un'attività. La moneta unica, il pensiero unico, stanno togliendo tutti i dazi, lo dico quel poveretto di Grillo. Noi siamo lì a combattere da soli, hanno tolto i dazi sulla frutta e la verdura che arriva dal Marocco, hanno tolto i dazi sul riso che arriva dalla Birmania, sulle scarpe che arrivano dal Pakistan, sul testile dall'India, perché ci dicono è il mercato, il mercato deve essere libero per il profitto, ma noi non siamo al mondo per il mercato e per il profitto, o diamo una regolata al mercato al profitto, oppure nel nome del mercato e del profitto ti crepano sette persone in una fabbrica dormitorio a Prato, perché poi vendono i maglioni a 5 euro, e come fanno a vendere i maglioni a 5 euro? A, lavorano in nero, B, non pagano una lira di tasse e nessun artigiano, nessun imprenditore di Cuneo può competere con questa gente. quindi il mercato e il profitto va bene, ma vanno regolati, vanno regolamentati, e se a Don Cella fare questa battaglia con me ci sono i francesi della Le Pen, ci sono gli austriaci, ci sono gli irlandesi e gli altri se ne fregano, allora viva Marine Le Pen e benvenuta a te che non se non è la mia vita che è il mio grande interventista. È bellissimo che a livello interno la vediamo in maniera diversa, la Le Pen è statalista, è centralista, è nazionalista, per carità di Dio, io a livello interno mi sento più bretone che Le Penista, perché lì sono per le lingue locali, le culture, le identità, ma la prima battaglia adesso è sopravvivere, prima un vivere e poi fare filosofia, quindi prima sopravvivere e salvare il lavoro, il lavoro lo salviamo se ridiscutiamo l'Europa e rottamiamo l'euro. noi abbiamo fatto in Lombardia un'iniziativa non anti-euro, un'iniziativa di informazione, anzi di contro informazione, settimana scorsa con tre professori universitari che hanno smontato riga per riga, dato per dato, tutte le eurofandonie, degli eurocretini e ci hanno spiegato che uscire dall'euro non solo si può ma si deve, però numeri alla mano, non così, discorso da bar alla grillo in piazza Vittoria a Genova, facciamo un referendo sull'euro, poi lo pagano quelli dell'euro e quindi chi se ne frega rimane l'intera morta. E io guardavo il calendario e proponevo, proporrò una cosa, ve la dico qua poi magari parlaceremo al congresso, visto che poi la gente non è scena, la gente ha capito che c'è qualcosa che non funziona in questa Europa costruita così come in questa moneta unica che per noi è una palla al piede, per la nostra economia è una palla al piede, per i nostri consumi interni, per i salari, per le pensioni, per gli stipendi, per gli imprenditori è una palla al piede e quindi io ho visto che il 14 febbraio la festa degli innamorati nel 2014 cade di venerdì, perché non fare una festa degli innamorati delle nostre terre, delle nostre economie, dei nostri cibi, della nostra sovranità anche monetaria e del nostro futuro il giorno dopo, sabato 15 febbraio in tutte le città della Badagna, Gazzego della Lega che spiegano che non è troppo tardi per salvarci e per costruire un'altra Europa con un'altra moneta e con un altro futuro perché noi siamo innamorati della nostra terra, non ci arrendiamo a essere semplicemente dei numeri, dei consumatori, qualcuno ha preso la nostra terra come un supermercato, il progetto prevede un supermercato dove noi siamo al massimo liberi di scegliere che cosa consumare di qualcosa che viene prodotto dall'altra parte del mondo, io non sono un consumatore, non sono un numero, sono un essere umano, il problema di questa gente è che però gli esseri umani pensano, mi sono riletto quest'estate George Orwell, il problema dei regimi è a Bruxelles c'è un regime, c'è un regime che è peggio, almeno i fascisti avevano la camicia nera e le conoscevi, i nazisti avevano la croce uccinata, questi sono eleganti, sono belli, sono in giacca e cravatta e fanno i professori e fanno gli economisti, però quello di adesso è un regime che ci porta alla morte e quindi io non ci sto, io mi ribello, io non sono un consumatore, io voglio a Cuneo mangiare quello che viene prodotto a Cuneo e voglio spettare il regime e lo presentire la questione che sarà una guerra, negli ultimi due mesi in Lombardia ci hanno arrestato due sindaci nella stessa provincia, Montichiari e Adro, e avrete visto in televisione a proposito di stampa, sindaca di Montichiari arrestata per tangenti, ciubbia, io da segretario della Rega Lombarda chiamo, cos'è successo? Mi spiegano, l'accusa alla sindaca di Montichiari è di aver chiesto a un imprenditore che gestisce una discarica dei soldi, non per sé, ma delle opere ambientali per il suo territorio, dico, ma scusa però, se me la dici così un sindaco o da uno che gestisce una discarica gli chiede dei soldi per un parco, gli do la medaglia, non è che l'arresto, però il Stato italiano l'ha arrestata, titoloni sui giornali, sindaca, leghista, arrestata per tangenti, dieci giorni dopo è stata rilasciata e le accuse sono cadute, ovviamente non c'erano i titoloni sui giornali, c'erano tre lide sotto il necrologio, però, quindici giorni dopo arrestano il sindaco di Adro, lo ricordate? Quello dei soldi delle Alpi nella scuola, quello che addirittura aveva mandato una lettera politica di una lettera politica di un'opera politica del presidente napolitano dicendogli lei non è il mio presidente, gliela firmo anch'io, napolitano non è il mio presidente, arrestato per turbativa d'asta, ripiglio il telefono e chiamo ancora in provincia a Trescia, cosa è successo stavolta? Turbativa d'asta, cosa ha fatto? Ha fatto, senza indire regolare gara d'apparto in base ai canoni italiani ed europei, ha fatto lavorare due imprese del posto per costruire sul posto un palazzetto dello sport a costo zero per i contribuenti non facendogli pagare gli otari alle imprese. Dico scusa, ripetemi, ha fatto lavorare delle imprese del posto per costruire a costo zero un palazzetto dello sport per le associazioni di volontariato del posto, sì, in Svizzera uno così lo premiano e in Italia lo arrestano. Tg1, Tg5 perché questo non era un sindaco qualunque, era il sindaco leghista, diadro, brutto, cattivo, becero, quello che aveva tolto il cibo ai bambini che non pagavano le mense perché aveva povero disgraziato da buon amministratore mandato una lettera a quelli che lui sapeva essere furbetti, arrivavano quei bimbi in BMW a scuola e poi non pagavano la mensa perché erano poveri e guarda caso poi la metà di quella gente la mensa ha cominciato a pagarla perché è un conto essere scemi e un conto è fare i sindaci però faceva notizia il sindaco leghista, cattivo, diadro, finalmente arrestato, dopo dieci giorni di arresti domiciliari di sciopero della fame il tribunale del riesame ha revocato gli arresti perché non servivano gli arresti. Però intanto questo per dieci giorni è stato ampiamente sputtanato, mi è venuto il dubbio che sia stato arrestato perché non seguendo la normale procedura quel palazzetto dello sport non è stato costruito dalla solita impresa che arriva da Reggio Calabria o da Catanzaro perché questo è poi ti lascia il buco e chi si è visto si è visto e quindi se una legge è scema infrangere una legge è scema è titolo di vanto non è titolo di arresto però per dirvi che ne correremo di tutti i colori con Roberto Cotta stiamo vedendo un antipasto se facciamo se decidiamo di provare a fare la guerra sui due fronti indipendenza noi siamo indipendentisti lo dico Gianna Gancia per quanto mi riguarda non come segretario federale ma come militante della Lega Nord il simbolo della Lega Nord è quello e non si tocca e il nome della Lega Nord è quello e non si tocca siamo indipendentisti siamo indipendenti non ci sono una legge di materia ma di credenza non più solo da Roma ma da Bruxelles perché se ne facciamo solo una delle due se ci liberiamo facciamo che domani ci liberiamo da Roma bene ci teniamo un sacco di soldi in più Roberto Cotta mette a posto il suo bilancio noi lombardi avremo 50 miliardi di euro in più da spenderci per gli affari nostri ci facciamo 8 ferrovie con i binari lastrecati d'oro però se ci liberiamo da Roma da uno stato ladro mafioso corrotto e fallito ma ci teniamo il vincolo di Bruxelles è a metà se ci liberiamo dal vincolo di Bruxelles ma ci teniamo la palla al piede dello stato ladro è a metà quindi i fronti sono due e ce la faranno pagare da qui a maggio ce la faranno pagare ne usciranno in tutti i colori io ogni volta che telefono alla fine della telefonata saluto il maresciallo che sicuramente ci sta ascoltando sperando che non ascolti il proprio il proprio il proprio il proprio quello che succede in Piemonte è un'anticipazione di quello che succederà ricicciano la roba di Bossi di Belsittolo e poi ogni sei mesi però la gente la gente la freghi una volta noi a febbraio abbiamo perso tanti voti noi alle elezioni politiche di febbraio abbiamo perso tanti voti io quest'età ne ho incontrati tanti in vacanza in provincia di Brescia e non alle valdine in vacanza guardi Salvini io devo dire ho votato Lega tanti anni poi però vi siete messi a litigare avete fatto casino l'amministratore Diamanti Renzo Bossi l'ultima volta non vi ho votato o non ho votato o ho votato Grillo perché insomma c'era la colmodo vaffanculo politici ladri però quest'estate ne ho peccati tanti che mi hanno detto guardi però dopo 5-6 mesi devo dire che io di vaffanculo non mangio mentre alcune cose che state facendo voi battaglie concrete io suggerivo a Roberto poi per far tutto con i soldi però non giochiamo più in difesa non stiamo lì a combattere sullo scontrino la cena in pizzeria io quando sono stato in Veneto ieri con sale pieni a Rovigo a Vicenza e a Verona ho sentito Luca Zaia e la migliore risposta agli scetici ai grillini di turno o ai menagramo in Veneto hanno aperto gli ospedali per 4 sere a settimana per ridurre le liste d'attesa e per fare le mammografie servono soldi sì qua avete ereditato una situazione economica disastrosa però io come rispondo a questa gente in Lombardia a due spunti abbiamo trovato 2 milioni di euro per un contributo fino a 400 euro al mese alle mamme e ai papà separati o divorziati con un bimbo a carico che dopo la separazione di un bimbo a carico non si era fatto e tu hai avvitato 900 mamme e papà che col vaffanculo non mangiano con 400 euro al mese per carità non diventano ricchi ma magari fanno la differenza fra comprare il grebiule nuovo a tuo figlio che magari non potresti fare o cambiargli le scarpe cosa che magari non potresti fare abbiamo provato a mettere una toppa al disastro di Roma sugli esodati a Cuneo siete gente per bene molto tranquilli molto pacati moderati vi chiedo solo da segretario in peccore qualora la signora Elsa Fornero passeggiasse per Cuneo prendete la caccia in culo non fate la caccia in culo se lì si prendono la rivoluzione e la caccia in culo 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 dovrebbe essere esiliata non dovrebbe passeggiare e pontificare ieri la Susanna Gaffusso la leader della CGL ha detto l'unica cosa seria da fare sarebbe di far pagare l'Imo lo dice lei perché i sindacati evidentemente non hanno questo problema e io penso che un altro referendum da fare oltre a quello che elimina i prefetti sia quello di rendere giustizia ai lavoratori per bene e quindi di lottamare questi sindacati che sono un problema per i lavoratori quindi come lega poi non mi voglio annoiare più di tanto però le battaglie da fare ci sono non abbiamo il problema di Renzi che deve capire che cosa vuole fare voi Renzi è simpatico si veste bene e parla bene di tanto senza dire nulla mia moglie è abbonata a Donna Moderna e a Vanity Fair e le ultime due copertine avevano Renzi io ho detto di Dici cortesemente l'abbonamento sia a Donna Moderna che a Vanity Fair perché già si accende il TG1 TG2 TG3 TG4 oggi Renzi ha mangiato il cornetto con la brioche oggi Renzi a pranzo ha fatto le calze di Renzi le scarpe di Renzi e il sorriso di Renzi cosa vuole Renzi io non l'ho capito dà ragione a tutti se dai ragione a tutti o sei ingegno o sei un falso per me è più una seconda della politica grazie 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 per vent'anni abbiamo provato a portarla a casa combattendo da dentro giustamente il cambiamento probabilmente non passa da dentro ma dai territori perché sono così incagnori e incavogniti sulle regioni perché uno come Grillo può arrivare a dire una bestiata però sostenuto dai grandi media dal Corriere della Sera dalla Repubblica il problema qual è? Roma? è Bruxelles? è lo Stato ladro dell'Unione Sovietica Europea? no il problema sono la regione e le province e i comuni guardate gli enti più martoriati più massacrati sono i problemi e quindi diciamo di nuovo a Bruxelles e cancelliamo tutto quello che c'è in mezzo numeri consumatori ogni tanto li facciamo votare se votano come va bene a noi va bene se non votano come va bene a noi li facciamo rivotare un'altra volta tanto basta un colpo di spread e ogni settimana vi ricordate i francesi quando hanno votato contro la Costituzione Europea? avevano votato contro non era previsto e li ha fatti rivotare probabilmente starebbero votando ancora oggi se avessero continuato a votare contro ti prendono per spinimento reagiamo al pensiero unico alla moneta unica al cibo unico diverso è bello l'identità è bella la lingua è bella è possibile che un sindaco di sinistra così accade in Lombardia non so in Piemonte uno dei primi atti che fanno i sindaci di sinistra quando vengono eletti dopo un sindaco della Lega è togliere il cartello della città in dialetto ma sei parato cioè se ti vergogni della tua lingua della cultura dell'identità della tradizione del territorio sei un uomo senza radici se non hai radici non hai futuro non hai speranza sei un numero sei ricattabile se ti tolgono il lavoro perdi dignità perdi la voglia di vivere è questo che stanno provando a fare avere 500 milioni di consumatori in Europa tanto poi a produrre ci pensa gli altri a produrre ci pensano i bambini a 2 dollari al giorno in Pakistan perché bisogna far fatica a pugno tanto a produrre ci pensa gli altri e la CGL apre uno sportello lunedì ha aperto uno sportello in Tunisia per e io non ci credevo io pensavo fosse una muffala vado a controllare e sono orgogliosi ce l'hanno sul loro sito la CGL ha fatto una conferenza stampa annunciando il 26 novembre l'apertura di uno sportello a Tunisi per fare cosa? per aiutare i tunisini che vogliono venire a lavorare in Italia nel settore agricolo a capire come fare ma Dio c'è la disoccupazione chiudono le stalle i nostri agricoltori non sanno dove sbattere la testa e un sindacato italiano pagato dai lavoratori italiani e dai contiguenti italiani va in Tunisia a spiegare ai tunisini come venire a fottere il posto di lavoro a noi italiani e un sindacato italiano e un sindacato italiano e un sindacato italiano di fucile devi guardare solo davanti se perdi la metà del tempo a guardare dietro o di fianco e non parli a mano poi io so che ci sono simpatie antipatie non possiamo pretendere di essere simpatici a tutti però se siamo in un movimento politico prima la causa per cui combattiamo poi il resto poi ci scaniamo in sezione a Cuneo se serve e poi c'è il commissariamento là e poi io sono incazzato con l'assessore e poi perché la nomina è stata data a Tizio invece che a Caio e poi rifacciamo il congresso perché non mi piace com'è finito e quello arriva sempre in ritardo al gazebo perché è da tutto giusto però da qui al 25 maggio prima vincere la guerra e la guerra per la Lega non significa prendere il 4,1% ieri Papa Francesco ha fatto un bel appello ai giovani dicendo vivere non vivacchiare non siamo qua per sopravvivere io sono europarlamentare mettiamoci in discussione è chiaro che essere europarlamentare è meglio che non esserlo perché giri perché hai un bello stipendio perché incontri perché puoi fare però la carica per tutti dal segretario di sezioni al segretario federale e magari su questo ci siamo un po' distratti negli ultimi anni la carica che ciascuno di noi ricopre pagata o non pagata deve essere un mezzo non un fine qualcuno magari ha frainteso il mezzo come fine e dice il mio obiettivo è essere rieletto no? il mio obiettivo è usare la carica che ho per l'indipendenza della badagna il mio obiettivo non è fare il mio obiettivo è il mio obiettivo noi siamo nati militanti del BDL magari ci saremmo divertiti un po' di più perché è anche un bel vedere diciamocelo e poi in ogni caso se c'è qualcosa da comunicare o fai la rete unificata quindi canali 5 taglio 1 avete 4 non hai grandi problemi siamo nati militanti della rega che è la cosa più bella che ci potesse capitare però è impegnativa ecco se ci siamo un po' riposati nelle ultime settimane negli ultimi mesi dal 16 dicembre in poi sarete chiamati a dare tutto a dimagrire 2 o 3 chili a prendere un sacco di freddo a prendere qualche insulto se serve oggi è giusto essere qua dentro per darci un obiettivo per darci appuntamento al 7 dicembre fuori dalla segreteria provinciale del Guneo tanta gente con le tessere vere non false non tarocche come qualcun altro però far vedere che la gente di Guneo c'è fino all'ultimo dei militanti che io poi voglio vedere i giornalisti come fanno nascondere il fatto che ci sono migliaia di persone che partecipano però poi basta essere a chiuso io prima ho fatto due passi sul corso era la prima volta che venivo a Guneo e ho visto una città stupenda per quanto abbia potuto vedere e c'era una marea di gente che passeggiava quindi richiacciamo le pile ci sono le feste di Natale facciamo il congresso ma il 6 gennaio la lega a Cuneo a Saluzzo ad Alba deve stare al chiuso il meno possibile e il più possibile in mezzo alla strada parlando con la gente il mondo non è Facebook il mondo non è la televisione il mondo sono le persone che stanno passeggiando per Cuneo oggi e non è la mia città mettendogli in mano i numeri dell'eurocrufa mettendogli in mano quello che abbiamo fatto nella regione Piemonte per il lavoro per la sanità rispondiamo a quei fatti rilanciando non giochiamo in difesa ma abbiamo niente da difendere non perché gli altri hanno rubato di più io non sono uno di quelli che gode per dire ma gli altri sono peggio noi dobbiamo essere irreprensibili e su questo non ho problema a crederlo però parliamo di fatti la gente ci paga per fare non per polemizzare e quindi io sono contento e spero che sia un congresso non come i giornali scrivono Salvini contro Bossi Salvini con Bossi un congresso insieme per andare avanti insieme quindi siamo a dire sistema più diverso per la data di Dio se siamo orologi perché lui è partito non perché si è partiti fulminati noi pochi o tanti anni fa e quindi le battaglie da fare non ci mancano uniti prendiamo un sacco di voti dicevo non il 4 e 1 non mi interessa tirare a campare la Lega che fa la Lega che parla la Lega che sorride la Lega orgogliosa piglia il 10% dei voti non il la Lega a punio è il primo partito torna a essere il primo partito ne sono straconvinto dobbiamo recuperare un po' di voglia un po' di sorriso un po' di orgoglio io ho ripreso a fare quello che non facevo da tempo attaccare ad esibili mi hanno fatto l'adesivo bello ho avuto pataccaro in Lombardia quello che si vede da fatto un adesivo basta euro blu e giallo che lo vedi anche se hai gli occhiali spessi così e io ho sull'angolo di casa mia a Milano una cabina dell'Enel e settimana scorsa ho ricominciato ad attaccare gli adesivi basta euro scendo la mattina non c'è grazie riattacco poi ho scoperto che lo staccatore è quello del quarto piano un medico candidato per la sinistra alle regionali contro Maroni di quelli con l'aere così che va beccato sull'ascensore e mi fa Salvini tu mi stai simpatico ma ci credi a quello che dici dico tendenzialmente sì potrei essere d'accordo o non d'accordo però quello che dico lo faccio non per necessità ma per convinzione ma sei un matto l'EU è la nostra salvezza fortunatamente ero arrivato a piano terra se no gli partivano due schiaffoni democratici e sinceri poi far medico si sarebbe curato da solo questo per dire il risultato è che gli adesivi ne ho attaccati dieci sono tutti die vediamo se si stanca prima lui di staccarli o prima io di attaccarli secondo me si stanca prima lui però questo per dire che la gente ha bisogno di vederci perché per troppo tempo siamo stati quelli che sui giornali ci finivano perché litigavano perché Tizio ce l'ha con Caio perché Bossi ce l'ha con Maroni perché l'indagine perché l'inchiesta perché la lettera anonima al quotidiano locale non abbiamo niente da nascondere siamo vincenti facciamoci vedere purtroppo gli italiani i padani i lombardi i piemontesi hanno tanti pregi ma hanno il difetto che sono prontissimi a correre in soccorso del più forte del vicitore e quindi se ti fai vedere remissivo all'angolo un po' sfigatello un po' colpuziente un po' timoroso però ci devono vedere con i volantini con gli adesivi con i manifesti con il gazebo io lavoro anche su Facebook mi piace però il mondo reale non è sul computer su Facebook raggiunge il 10% della gente il mondo reale sta passeggiando lì in mezzo il mondo reale deve leggere un pezzo di carta deve essere abbracciato deve essere ascoltato deve essere incontrato fuori dalle sezioni quindi mi scuso se vi ho annoiato ma vi posso garantire fatica fatica e fatica ma alla fine soddisfazioni per gli altri che avranno il governo e per gli altri che non è una questione di anagrafe ogni tanto quello che il giornale dice Salvini dei giovani padani magari a 40 anni in Europa finisci di essere giovane a 25 anni secondo qualche giornalista io sarò giovane per fortuna ancora a 50 non è un problema anagrafico sì è vero io sono entrato in Lega che avevo 17 anni però non necessariamente giovane è bello o giovane è brutto fortuna che c'è l'energia la follia la spensieratezza dei giovani a volte ci sono dei settantenni che sono molto più svegliattivi di dei veritanni ricoglioniti cioè non è che la carta di identità che non necessariamente c'è un problema io sono orgoglioso di fare il sabato notte a Pontiva in Tepra e anche qualora facessi il segretario continuerò a fare il sabato notte a Pontiva in Tepra magari non facendo qualche coro che poi qualcuno fa in Tepra e si arrabbia però la Lega è quella è la gente poi la Lega è anche l'incontro con Confindustria con Fattigianato con ho incontrato ho avuto la fortuna di incontrare un grande uomo 15 giorni fa di fare un pranzo con Bernardo Caprotti il patron dell'Esseruga che va in pensione a 88 anni c'è chi va in pensione a 88 anni ed è sveglissimo come Caprotti e c'è chi a 88 anni come napolitano non vuole proprio andare in pensione sono due loro di una situazione perché uno che pubblica un libro falce e carrello dove ti spiega e ti documenta come i compagni sinceri democratici dell'Emilia della Toscana della Liguria o hai la tessera oppure non lavori è uno che ha due palle così e noi abbiamo bisogno di gente che ha due palle così quindi mi chiudo mi taccio conto di tornare in provincia di Cuneo presto prestissimo non in una sala sotto un gazebo là in piazza magari con un po' di mimbrulè una marea di volantini e andiamo incontro alla gente è un momento in cui la gente va politica le stanno raccontando che la politica è una roba sporca che è una roba brutta è il disegno di prima di Bruxelles non servono i politici non servono le regioni mettiamoli il tecnico mettiamoli quello che capisce di spread mettiamo il banchiere poi abbiamo visto il professore la credibilità internazionale quello che capisce di spread adesso la Grecia leggevo ieri la Grecia ha i conti a posto MUDIS perché ormai il voto vale molto meno delle agenzie di rating MUDIS ha leggermente rialzato il tasso di credibilità della Grecia che dalla serie Z arriva alla serie Evo doppia piccolo problema per i greci questo leggero recupero del tasso di credibilità delle agenzie di rating li ha portati ad avere una disoccupazione del 27% e una disoccupazione giovanile del 61% in Grecia non hanno un lavoro però andate a dirglielo ad Atene andate a dire a questi sei ragazzi disoccupati guarda sei disoccupato e stai crepando di fame però hai un bel rating questo non lo prende benissimo questo oggi gli strumenti sono questi secondo me glieli smontiamo culo per culo pezzo per pezzo fandonia per fandonia se siamo tanti se siamo uniti se siamo compatti se siamo disposti a rischiare io ci sono solo se ci siete voi se votano votano 17.000 militanti un segretario federale da solo non fa niente dimossi non ne nascono più quindi un segretario federale che va alla guerra da solo mentre i 17.000 soldati dietro sono un po' distratti o non c'ha voglia è morto io non lo faccio chi me lo fa fare la più incazzata di tutti è mia moglie che mi ha detto ma c'era proprio bisogno sono abituato a dire sì quando la lega chiama ha torto a ragione da tanti anni mi metto in gioco metto in gioco la mia seppur scarsa esperienza credibilità però io posso andare in televisione posso andare da Vespa posso andare a Santoro posso fare 15 incontri pubblici al giorno fra Bruxelles Milano Cuneo Vicenza e Rovigo posso incontrare mille persone ma un segretario federale da solo o un segretario nazionale da solo non va da nessuna parte se siete disposti a passare i prossimi sei mesi pancia a terra e poi facciamo i conti a urne chiuse andate a votare il 7 dicembre e venite a Torino il 15 dicembre se non avete voglia o non avete tempo lasciate stare secondo me se lo facciamo ci prendiamo delle belle soddisfazioni e li facciamo mazzo così grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti